Ragazzi potrete dover ripetere più volte la sequenza perché purtroppo Allora dovete trovare l'equilibrio perfetto, nessuno vi deve vedere, nessuno vi deve sentire E non è facile, non è facile Purtroppo vi assicuro che non è facile Perché ci vuole veramente pochissimo per essere individuati Allora in teoria non si dovrebbe correre Perché altrimenti vi sentono In pratica vedete se non facciamo questo piccolissimo scattolo Ammazziamo qua dietro a questo qua Quindi dovete alzarvi, camminare, ammazzarlo dietro la cassa per non essere visti Ragazzi dovete provare e riprovare perché basta un niente, un piccolo rumore e vi scopre Ammazzate questi due in questo modo Salite su, ci sono gli altri due Aspettate che non vi vedano Quello là vi vedrà Aspettate Aspettate Silenzio, silenzio Quello là deve girare Ok, non vi vede più Ammazzate anche questo Ne rimangono due A quanto pare ci sai fare davvero Allora ne rimangono due Questi due che restano Osservate come procedono Per poterli uccidere Ecco, vedete Questo lo uccidiamo qua Dentro Il medikit Raccoglietelo ma non consumatelo Mo ce ne resta uno Che non lo vedo neanche più Ecco, ha scoperto In bocche parole Ha scoperto Che quello è morto Ora lo prendiamo Però non vi ha scoperti dove siete Ok, corsa Lui attacca la nostra amica Ok, non dovevamo andare proprio così Ma è andata bene Perché purtroppo ci aveva scoperti Però abbiamo usato il trucco Che lui attacca la collega E noi lo stendiamo Vedete, io ho preso una bottiglia di vetro L'ideale sarebbe un mattone Quindi esplorate la zona Uccidete questi cinque nemici Potete ripeterla Insomma ci ha colpiti Ma più di tanto non ce ne frega Qui dovrebbe esserci un coltello Vedete, questo lo prendete E non ve lo mostra neanche Figlio di puttana In bassa destra non ve lo mostra Io posso usare tre scatti Quindi o lo uso per uccidere tre persone E poi lo perdo Ma quello che vi consiglio È conservatevelo Conservatevelo Ci sono tredici porte In tutto il gioco Da poter sbloccare Voi non arriverete mai A prendere tanti coltelli Da aprirle tutte Nella difficoltà massima Perciò questo coltello Va conservato verso la fine Quando riterrete Più adatto aprire qualche porta Di sicuro non adesso Che abbiamo solo l'arma Ma lo utilizzerete Quando avrete Quando meno due pistole E due fucili raccolti nel gioco Perché altrimenti Non vi darà niente Quindi Tenetelo in archivio Tanto nessuno ve lo toglie Eccolo qua Ho fin anche La roba per fabbricarne un altro Quindi vedete Due coltelli Questi due coltelli Io li tengo ora in inventario Conservati Ma da assolutamente Ragazzi Non li devo utilizzare Per uccidere Così come scordatevi Di potenziare Quest'abilità Che vi fa usare i coltelli Per ammazzare i nemici Non vi serve Non vi serve